A poco più di tre ore dall'apertura delle urne reputiamo necessario dare una prima spiegazione su questi dati che non sono assolutamente allineati. Si è partito alle 15 e un minuto con le prime rilevazioni basate sugli Instant Poll. Cosa sono gli Instant Poll? Sono sostanzialmente quel sistema di rilevamento di intenzione di voto che le società di ricerca effettuano ad urne appena chiuse. L'Instant Poll dava Bersani in nettissimo vantaggio sia alla Camera sia al Senato per quanto il dato era aggregato e quindi la ripartizione dei seggi al Senato poteva certamente riservare una sorpresa. Si è viaggiati con questa certezza per circa 40 minuti sino al momento in cui cominciavano ad affluire i voti di spoglio al Senato e quindi gli istituti di ricerca hanno potuto mettere in campo il loro secondo sistema, quello più sofisticato delle proiezioni. Ebbene le proiezioni al Senato di tutti gli istituti di ricerca davano in netto vantaggio invece la coalizione guidata da Silvio Berlusconi e quindi un dato in assoluta controtendenza rispetto a quello degli Instant Poll una volta detti Exit Poll che sembravano dover dettare la linea rispetto alle previsioni. Lo sconcerto è durato un'altra mezz'oretta circa quando cominciano ad arrivare i primi dati ufficiali di spoglio al Senato ed ecco che qui ancora una volta il dato viene sovvertito cioè il centro-sinistra torna in vantaggio almeno un vantaggio numerico non però giustificato dal fatto che il dato scomposto delle regioni potrebbe ancora una volta sovvertire questa previsione. L'unica certezza riguarda le sezioni scrutinate al Senato e anche in questo caso la Sicilia che spesso è stato determinante per l'assegnazione della vittoria a una o l'altra coalizione ha riservato un'ulteriore sorpresa. Innanzitutto il PDL che assieme ai suoi partiti alleati raggiunge un dato complessivo del 28,24% ripetiamo un dato che fa riferimento alle ore 18. Il PD assieme alla lista del megafono raggiunge il 27,46% quindi lontano meno di un punto percentuale dalla coalizione di Berlusconi con un dato scomposto che vede il PD al 18,51% il megafono la lista del presidente della regione Rosario Crocetta al 6,95% ma le sorprese non sono finite perché il primo partito al Senato sarebbe il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo con il 29,11%. Cosa ci racconta in questo momento il dato più eclatante quello di Grillo primo partito? Che il premio di maggioranza andrebbe appunto a Beppe Grillo e che quindi sostanzialmente la vittoria di Grillo in Sicilia avvantaggerebbe Bersani. Presto detto il perché il pareggio in Sicilia tra il PDL e il PD garantirebbe al partito di Bersani di non perdere terreno rispetto alla principale coalizione ma ripeto siamo ancora alle ore 18 e c'è tempo per altri aggiornamenti.